Signori e signori buongiorno a tutti, sono Marcello Luciani, il presidente regionale Amil Marche, ringrazio tutti per la presenza. Questo è un giorno importantissimo perché è la fine e l'inizio, la fine di un grande progetto che è nato alcuni anni fa addirittura e si è coronato con successo il 4 marzo con l'esame finale. Non mi voglio dilungare perché poi purtroppo farò un nuovo intervento, quindi vorrei lasciare la parola al presidente Amil Nazionale, Gioello Forni. Bene, grazie Luciani. Buongiorno a tutti. Permettetevi un doloroso saluto e un ringraziamento per il coinvolgimento anche quest'anno dell'Anmil nell'ambito della giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri. A volte quando qualcuno parla con noi dell'Anmil fatica ad immaginare le nostre storie e si limita al dovuto rispetto che merita un'associazione importante e numerosa come la nostra. Anmil non è un'associazione come le altre, ma particolare, fatta dalla somma delle notti insonni in ospedale, dei pianti inconsolabili delle vedove, dei dolori di milioni di persone che hanno vissuto un infortunio sul lavoro. Conoscere un infortunio sul lavoro significa conoscere la storia di qualcuno che lo ha vissuto e che diviene simbolo e bandiera di tante altre storie. Per far parlare i numeri possiamo fare un esempio. Oggi la maggior parte dei giovani italiani frequenta la scuola per lunghi anni, 13 anni, ovvero 5 elementari, 3 di medie e 5 superiori. Ma nessuno in questo cammino ci racconta che nello stesso periodo di tempo ci sono stati circa 9 milioni di famiglie che hanno vissuto il dramma di un infortunio sul lavoro. E questo significa che, considerando una famiglia di 3-4 persone, più della metà degli italiani ha direttamente vissuto questa esperienza. Io ho sempre cercato di non fare passare sugli altri la mia invalidità. Ho perso una gamba a 13 anni nel primo lavoro che facevo. Ho finito la scuola, ero un bambino che non avrebbe mai potuto giocare a pallone. Mi piace pensare che fu in quelle notti di ospedale senza sonno che decisi di impegnarmi affinché nessuno altro capitasse quello che era accaduto a me. Così, nell'anno in cui i miei compagni giocavano ad imitare gli eroi olimpici di Roma, io nel 1960 mi sono iscritto all'ANMIL e sono qui a continuare questo lavoro. Oggi io sono qui per dire a lei, Presidente, alla Giunta, al Consiglio delle Marche, una parola molto semplice. Grazie. Grazie perché quello che avete fatto nelle Marche e quello che mi auguro continuerete a fare, ad implementare, ha una dimensione di rilevanza storica. Noi siamo un paese capace di indignarsi per l'assurda morte di una giovane mamma sul lavoro, riempendo per qualche giorno i talk show di politici, giornalisti, cosiddetti esperti, che dicono Basta! Ora basta! Poi non accade assolutamente niente. Oggi nelle Marche si sta facendo qualcosa che ci permette di comprendere che la sicurezza non si può trasmettere come una nozione, ma che è necessario offrire un'emozione. Le nostre testimonianze possono essere un'emozione che diventa un vaccino, ma senza, per fortuna, nessuna controindicazione. Noi, caro Presidente, insieme nelle scuole e nelle imprese, possiamo fare un lavoro importante, sapendo che quello che stiamo facendo potrà fare risparmiare a qualcuno l'esperienza come quella che ho vissuto sulla mia pelle da bambino. Quel tipo di esperienza che io, come tanti colleghi, ho dovuto affrontare. Lascio la parola al collega Presidente Luciani, che voglio ringraziare per l'impegno e la passione che ha messo in questo lavoro, che potrà entrare più in dettaglio nel lavoro che sta facendo. Grazie. Buongiorno a tutti di nuovo. Ringrazio il Presidente Forni per il grande lavoro che sta svolgendo nell'associazione e per la testimonianza che ci ha appena dato. Saluto e ringrazio il Presidente della Regione, Marche, Francesco Acquaroli, per il grande interessamento mostrato al progetto Scuola della Testimonianza. Ringrazio l'Assessore Aguzzi, che abbiamo avuto modo di incontrare già lo scorso 15 luglio. Ringrazio il Dirigente Rocchi, che tanto si è prodigato per la realizzazione del progetto stesso. Ringrazio anche il funzionario Catalani, che è qui in sala, che ci ha accompagnati nel percorso formativo dall'inizio alla fine, designato dalla Regione come Presidente della Commissione d'Esame. Inoltre mi fa molto piacere salutare e ringraziare per la presenza il Direttore regionale dell'Ineal Marche, Giovanni Contenti. Vorrei fare un breve riassunto del progetto Scuola della Testimonianza, realizzato nella Regione Marche. Sono più di dieci anni che l'AML si batte per una formazione sulla sicurezza che sia vera e non di carta, come purtroppo accade nella maggior parte dei casi, fatta solo per ottemperare agli obblighi di legge. La Regione Marche è la prima in Italia che ha firmato un protocollo di intesa con AML per la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza, o meglio, la cultura delle sicurezze, al plurale. Grazie a questo protocollo la Regione Marche ha stanziato un fondo che ha permesso di realizzare un corso di formazione professionalizzante, creando una nuova qualificazione della qualifica di formatore già esistente, che è il testimonial formatore della sicurezza. Qualificazione riconosciuta per il momento solo nelle Marche, ma gli uffici regionali, in collaborazione con AML nazionale, stanno già lavorando per proporre l'esperienza al coordinamento delle Regioni in Casa AML e alla Conferenza Stato-Regioni. Puntualizzo che in questa qualificazione è insita la qualifica di formatore della sicurezza, che invece è riconosciuta in tutta Italia. Il corso della durata di 208 ore è stato attivato il 19 ottobre del 2020 ed è terminato il 25 febbraio 2021, con l'esame finale di verifica del 4 marzo 2021. Per la prima volta 15 infortunati sul lavoro, requisito indispensabile ma non unico per poter avere accesso al corso, sono stati formati per erogare formazione sulla sicurezza ai lavoratori, inserendo la propria testimonianza come elemento essenziale per catturare l'attenzione dei discenti, cosa che normalmente non accade. Essendo questo il primo progetto in Italia, in accordo con il Presidente Acquaroli, si è voluto valorizzare la consegna degli attestati realizzando appunto questa conferenza stampa, che potrà dare un grande stimolo alla diffusione della Scuola della Testimonianza in tutta la nazione. Questo momento vuole essere da una parte il momento conclusivo di un percorso coronato da successo, in cui 15 persone con disabilità vengono qualificate ufficialmente come testimoni al formatore della sicurezza, dall'altra l'apertura del tavolo sulla sicurezza previsto dal protocollo d'intesa. Come già ho detto, a noi piace parlare di sicurezze e ancora di più di cultura delle sicurezze, perché se è vero che ogni anno vengono denunciati circa 650.000 infortuni sul lavoro, è pur vero che gli infortuni domestici sono circa 4.500.000. Tanto per intenderci, in questa ora che staremo insieme, in Italia ben 75 persone subiranno un infortunio sul lavoro e ben 513 si faranno male stando in casa. Sono numeri incredibili che potranno essere abbassati solo ed esclusivamente aumentando la cultura delle sicurezze. Per fare ciò bisognerà partire dalla famiglia e soprattutto dalla scuola. Ed è proprio per questo che al tavolo sulla sicurezza dovrà partecipare oltre che l'assessore Aguzzi, responsabile del settore lavoro, anche l'assessore Latini, responsabile dell'istruzione, perché è proprio nelle scuole che potremmo fare insieme un grande lavoro. Quello che stiamo facendo oggi è la prova che il mondo della prevenzione sta cambiando. Mi auguro che con noi e la Regione ci possa essere anche l'INAIL in una nuova stagione di collaborazione orientata solo dalla concretezza dei risultati. E per terminare vorrei entrare nel personale. Anch'io sono un infortunato sul lavoro. Ho subito un infortunio in itinere. Sono stato coinvolto in un incidente stradale, mentre la sera del 16 gennaio 2017 ritornavo a casa dall'ufficio. Diagnosi d'ingresso a pronto soccorso, politrauma con frattura simultanea di 21 ossa, tra cui 9 vertebre e dente pistrofeo, l'osso del collo. Sono vivo grazie ad una miniscola pallina di grasso di 8 decimi di millimetro che ha impedito al dente pistrofeo di recidere il midollo spinale. Concludo. Oggi per me è un giorno importantissimo, di grande emozione. In questo progetto ho avuto il doppio ruolo di discente e organizzatore. Voglio ringraziare dapprima i docenti tutti. E qui abbiamo la presenza di due docenti, di dottor professor Sergio Mustica e mille volte Alessandra, che non vedo comunque, l'ho salutata prima, eccola qua. E quindi vi ringrazio. E poi voglio ringraziare ad uno ad uno tutti i miei colleghi che mi hanno supportato e sopportato in questo percorso. Oggi per noi tutti è un bel giorno. Viva le Marche e viva l'Ammin. Bene, a questo punto direi di dare la parola al direttore regionale dell'INAIL Giovanni Contenti. Sì, mi ringrazio di avermi reso partecipe di questa iniziativa rispetto alla quale io sono per ruolo, per etica, per sensibilità vicino, solidale, attento e pronto a dare quelli che saranno poi i contributi. sono stato, diciamo, chiamato in causa per quelle che possono essere, diciamo, delle nuove stagioni, delle nuove collaborazioni. Sicuramente sarà così, sarà così perché INAIL è impegnato in un ruolo istituzionale da sempre sul mondo della sicurezza, sul mondo della salute, sul lavoro. È impegnato sul recupero, il sostegno, l'assistenza al mondo, ahimè, infortunistico che purtroppo determina situazioni gravose che hanno bisogno e necessità di attenzione, di vicinanza, di recupero, di affiancamento, ma anche di rilancio. Allora io, come dire, sposerei questa politica del rilancio, del riavvio, dell'entusiasmo. Spero che le previsioni del Presidente Luciani su quelli che possono essere gli incidenti, gli accadimenti durante questa nostra amabile riunione possono essere disattesi. Mi auguro che, come dire, no? Siamo e portiamo anche una ventata di buona speranza, di fortuna, e quindi bisogna avere una cultura. Io quello che percepisco come segnale di vero cambiamento, di grande cambiamento, è quello culturale, cioè le persone che hanno vissuto in prima persona e elementi delittuosi, gravosi nel mondo del lavoro diventano i testimonial, diventano la parte attiva, diventano un volano, diventano un sostegno e uno stimolo perché, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, il sistema di sicurezza non sia su carta, ma sia uno degli elementi cardine all'interno dell'organizzazione aziendale, dove nel momento in cui le analisi aziendali vanno a vedere la loro realizzazione, l'elemento sicurezza è uno delle componenti imprescindibili. Ecco, questo è il vero cambiamento culturale che noi dovremmo portare se vogliamo raggiungere i grandi risultati. Poi è chiaro che nel momento in cui andiamo a calare questi modelli, questi cambiamenti, queste sensibilità nei vari contesti, la grande attenzione che INAILDAE ha sempre dato al mondo del lavoro, e a tutti quelli che sono, diciamo, i disagi recati dagli effetti di eventi delittuosi e gravosi daremo sicuramente anche da questo punto di vista attenzione, collaborazione e sensibilità. Io vi ringrazio per non avermi fatto sentire ospite in questo amabile consesso, ma nel contempo non mi ci sarei mai sentito, insomma, pur etichettato come tale. Grazie. Grazie direttore, e ora lascerei la parola al dirigente Rocchi, responsabile del settore formazione di Marche. Prego. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dico ben ritrovati perché ci siamo visti un po' di tempo fa dove avete lanciato questa idea. E la cosa bella è che dall'idea è nato qualcosa, qualcosa di importante. Ecco, la regione Marche, tramite il servizio formazione professionale e di istruzione, perché io seguo anche la parte dell'istruzione, ho pensato che poteva essere proprio un canale che potesse fare da volano per la diffusione della cultura delle sicurezze. E quindi questa idea è stata subito colta e l'abbiamo concretizzata. Abbiamo prima realizzato lo standard formativo, quindi abbiamo costruito insieme quelli che sono i moduli formativi per poter formare il testimonial della sicurezza e da lì abbiamo realizzato il primo percorso formativo. Dicevo che la formazione professionale dell'istruzione è un canale che la regione metterà a disposizione per diffondere questa cultura, perché sapete che l'attività formativa coinvolge tanti soggetti, istituzionali, le imprese, le scuole, gli enti di formazione e tutti coloro che partecipano ai nostri corsi. Quindi abbiamo la possibilità di interloquire con tanti soggetti e quindi avremo modo insieme di collaborare affinché chi è stato formato in questo corso possa diventare attore all'interno delle nostre attività formative e portare quelle emozioni che a me in prima persona avete trasmesso i primi contatti e i primi conti che abbiamo avuto insieme perché sentire da chi ha avuto un incidente sul lavoro l'esperienza che ha vissuta vi devo dire che è stata molto forte e quindi ecco l'idea di poter trasformare la formazione da un obbligo di legge ad un'opportunità emozionale penso che sia il salto di qualità che siamo riusciti a fare e che faremo da qui in avanti insieme grazie grazie dottor Rocchi e ora direi di dare la parola all'assessore Aguzzi grazie grazie presidente buongiorno a tutti il tema che noi oggi qui stiamo trattando e approfondendo è ovviamente un tema di particolare importanza e delicatezza che purtroppo a volte viene sottovalutato ed è particolarmente opportuna questa iniziativa di oggi perché cade in un momento della cosiddetta ripresa economica cioè della ripartenza ho fatto un esempio prima scusate se lo rifaccio anche io forse è stupido però ho fatto un esempio prima durante un'intervista è come se sta qualche giorno senza mangiare e poi a un certo punto ti ritrovi la tavola piena e si rischia poi magari di avere degli accessi magari di star pure male dopo due anni di fermo di lavoro oggi c'è una vera grande ripartenza pensiamo anche il bonus 110% che si muove su tutto il territorio nazionale ecco si rischia in questo momento di pensare più alla quantità di lavoro che c'è sul piatto alla grande disponibilità e magari di perdere di vista quella che poi è la qualità del lavoro e connessa a questa ovviamente l'attenzione anche al fatto che non debbano succedere poi situazioni di sofferenza nel mondo del lavoro ecco siamo in questa fase quindi non vuol dire che è una fase pericolosa questa è una fase auspicabile ovviamente quella di la ripresa di lavoro e di attività però dobbiamo incentivare proprio forse ancora di più in questo momento l'attenzione in questo settore e quindi questa iniziativa cade nel momento io credo anche più adatto più opportuno per onestà intellettuale perché questo si deve caratterizzare io ho già detto anche prima questa è un'iniziativa che è stata intrapresa dall'amministrazione precedente come tempistica e sotto gli occhi che però noi abbiamo non solo voluto ovviamente continuare e proseguire ma anche enfatizzare grazie al presidente a parole che ha avuto per questo momento oggi di visibilità non perché dobbiamo farci belli ma perché credo che dobbiamo invece portare la conoscenza la più ampia platea possibile intanto di un tema trattato molto delicato ma anche della maniera inedita di come lo stiamo trattando e come è stato immaginato pensato e portato avanti come progetto quindi chi deve insegnare agli altri l'attenzione semplici diciamo semplifico è chi ha subito direttamente diciamo così sul proprio sulla propria persona una problematica di questo genere e allora chi meglio tra virgolette di chi la conosce una situazione direttamente può diciamo creare la giusta attenzione la giusta emozione ma anche la giusta conoscenza per inculcarla e insegnarla agli altri questa è la cosa inedita e quindi spero che dopo questo momento ci siano anche situazioni dove un'iniziativa di questo genere si possa copiare io non ero molto bravo a scuola ero io che copiavo in genere ecco se riusciamo ad essere copiati non siamo certo gelosi ma siamo orgogliosi di questo ed è quello che dobbiamo fare per questo vi ringrazio tutti grazie assessore ed ora è rimasto il presidente acquaroli che era bravo a scuola ero bravissimo allora innanzitutto buongiorno a tutti e grazie veramente per questa occasione ringraziamenti per la presenza del presidente nazionale del direttore regionale dell'INAIL e ringraziamenti a ognuno di voi che ci ha raggiunto qua in presenza e anche per anche per collegamenti digitali io voglio partire chiaramente un saluto anche a Rocchi che è all'assessore che sono qua con noi io voglio fare però un passaggio particolare l'ha detto anticipandomi l'assessore Aguzzi credo che il merito di questo punto di arrivo sia da condividere anche con la giunta guidata dal professor Luca Cerescioli che ha iniziato un percorso che evidentemente è stato toccato in maniera forte da quella sensibilità della sicurezza sul lavoro che deve appartenere a tutto l'arco costituzionale e a tutte le forze politiche che oggi operano in Italia perché la sicurezza sul lavoro è un traguardo che non si deve dare ben raggiunto e che credo che debba essere sempre rilanciato con la massima attenzione un altro ringraziamento veramente profondo va a Marcello Luciani perché credo che lui abbia veramente avuto un ruolo straordinario nel sensibilizzare le istituzioni e per questo per noi è stato facile raccogliere quanto già fatto dall'amministrazione precedente perché abbiamo compreso l'importanza per il tramite della sua testimonianza della sua passione di quello che è stato il lavoro che noi abbiamo ricevuto e dovevamo a cui dovevamo dare seguito quindi veramente un grazie di cuore perché ritengo che questo tipo di iniziative siano iniziative molto forti e importanti e vanno al di là del circuito stretto che viviamo questa mattina devono entrare nel mondo del lavoro devono entrare nel mondo della società delle politiche sociali nel mondo della formazione nel mondo delle imprese perché solo così noi riusciamo meglio a comprendere noi e a trasmettere a chi è intorno a noi l'importanza di questo tema e il fatto che ci siano delle testimonianze che possano trasmettere coinvolgendo il circuito intorno che ho appena citato credo che sia un elemento essenziale per tenere sempre alta l'importanza della sicurezza sul lavoro e mettere in guardia rispetto a quello che può avvenire mettere in guardia l'impresa che ha un ruolo importante sia nel mettere in sicurezza i luoghi che nel dare nel conferire il giusto risalto a questo tipo di tema mettere in guardia le istituzioni che devono farsi portatrici nelle sedi istituzionali e amministrative opportune del loro ruolo su un tema così importante e mettere in guardia il lavoratore che magari quotidianamente in maniera anche normale va al lavoro cercando di comprendere quelli che possono essere i pericoli che non riesce a vedere nella sua attività ecco è importante che ognuno riesca nel proprio ruolo a conferire la giusta la giusta dimensione di questo fenomeno perché i numeri che il presidente Luciani ha in encardo sono numeri che noi direttori speriamo che possano essere smentiti ma fanno parte di una scienza la statistica che purtroppo è una di quelle che non si può discutere perché sono quelle scienze esatte che sono anche incontrovertibili in questo senso io ritengo che noi possiamo migliorare quei numeri se ognuno per le proprie competenze riusciamo a dare il nostro contributo quindi è e ritengo una veramente una grande conquista quella che facciamo quella che riusciamo a fare tutti insieme questa mattina però è un punto di partenza e deve essere un punto di partenza perché a fronte di un grande risultato che è quello dell'abbattimento almeno in percentuale delle statistiche sugli infortuni sul lavoro e delle conseguenze che poi ne conseguono ecco a fronte di quel risultato l'investimento è veramente un investimento molto basso quindi credo che valga la pena insistere valga la pena anche voglio dire potenziare questa sinergia istituzionale e nella filiera che arriva fino alla società vissuta quella del mondo del lavoro delle imprese e in ultimo io mi sento anche di dire ringraziando chiaramente tutti della forza che noi possiamo far scaturire dalla testimonianza che secondo me è un elemento che in questo tipo di società che noi viviamo che è una società veloce che passa per il tramite dei social che passa per il tramite di tanti messaggi che ci arrivano rischiamo di non mettere più al centro invece io credo che la testimonianza in ogni luogo possa diventare un elemento che dà forza per chi la trasmette perché trasmettere una testimonianza presuppone una forza interiore molto importante quindi io vi ringrazio anche di questo perché significa mettere se stesso la propria esperienza il proprio il proprio dramma vissuto a portata di tutti e quindi significa con la propria testimonianza noi riusciamo a costruire qualcosa di questo noi ve ne siamo io ve ne sono particolarmente grave perché non è scontato perché non è facile e perché credo che sia un gesto di enorme 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 veramente valore grazie e proseguiamo con la cerimonia grazie presidente per le belle parole che ha avuto anche nei miei confronti e voglio indicare una piccola coincidenza che non è a caso ma l'ho voluta anche se Fabio Pistarelli non lo sapeva lui mi ha dato delle date e mi ha detto scegli tra il 7 e l'8 e ho detto facciamo l'8 l'8 perché se si ricorda presidente l'8 abbiamo fatto l'anno scorso l'incontro al Parco Posatora in cui c'erano tutti i candidati governatori e tante associazioni organizzate dall'AMIL ci siamo incontrati e abbiamo avuto quell'incontro quindi ho creato questa piccola coincidenza che mi piaceva ricordare bene a questo punto dovremmo proseguire con la firma prima degli attestati e la consegna degli attestati grazie a tutti grazie a tutti